Buonasera, deve far torire ancora la madonna, vedi? Ma è come si cammina, eh? Buonasera Per levare il gran turco Guarda Guarda Vieni contattino, vieni qua se voglio Questa è il metato E questo è il metato A seccare, per fare le castagne Buonasera Grazie mille No, guarda forte Vai, è andata Questa è il metato Vai Vai Due addirittura Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie.